Hello guys, Randy Rana here e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere vi inizierò a presentare tutti i pezzi del mio nuovo computer. Partiamo da questo processore che è un Intel Core i5 3570K, proprio come statele vedendo adesso nel video. Continuiamo con l'apertura del pacco che presenta all'interno il processore che è l'Intel 3570K ma ve lo farò vedere per bene durante la registrazione. E in più presenta un dissipatore stock che ho preferito cambiare prendendone un altro che vedremo più tardi. Come potete vedere qui questa è la CPU ed è davvero un ottimo processore. Sto facendo dei test adesso, ho visto comunque dei benchmark su internet e non posso far altro che consigliarlo. Forse scalda un po' tanto, un po' troppo anzi, come gli Ivy Bridge in generale. Però devo dire che ha delle ottime prestazioni e soprattutto si overclocka abbastanza facilmente. Quella era la CPU e la scatolina che si è aperta mentre registravo, ma perdonatela, era un po' timida. Adesso invece questa è il nostro dissipatore che abbiamo in stock con il processore, che è un po' rumoroso e raffredda poco. Quindi io non lo consiglio a coloro che cercano di comprare un nuovo computer, che lo stanno assemblando. Poi, come potete vedere qui, parlando di dissipatori, passiamo al nostro Cooler Master Hyper 412 S. Che è un dissipatore a griglie, come potete vedere, dotato di una ventola sempre Cooler Master. Mi sembra di 12 cm, adesso non ricordo sinceramente. È un ottimo dissipatore. Da quello che, almeno c'è scritto sulla scatola e anche leggendo sui forum e su internet in generale, è anche abbastanza silenzioso e fa egregiamente il proprio lavoro. Quindi ha un prezzo non troppo alto, un prezzo contenuto dovrebbe essere intorno ai 40 euro. E per un dissipatore con questa efficienza diciamo che 40 euro sono più che giustificati. Consiglio quindi a tutti quanti voi, mi ripeto, di comprare un dissipatore a parte, invece del dissipatore stock che vi dà Intel. Perché i dissipatori Intel non sono il massimo, a differenza di quelli AMD che sono leggermente migliori. Quelli Intel fanno abbastanza schifo, sia in prestazioni sia in rumorosità. Quindi come avete appena visto, quella era la ventola e questo è il vero e proprio dissipatore. Con la parte più in basso, come potete vedere, che è quella che verrà applicata poi sul nostro processore tramite la pasta termica. Pasta termica che non userò quella di Cooler Master, come avete visto, nel pacchettino con tutti i suoi gadget. Ma ho comprato a parte perché ne ho trovato un'altra migliore. Ed eccola qui, ve la presento. È l'Arctic MX4. Sono appunto 4 grammi di pasta termica che è garantita 8 anni. E da quello che ho letto su internet, grazie a questa nuova formula che avevano sviluppato i ragazzi di Arctic, riesce ad abbassare ancora di più le temperature della nostra CPU e calmarle i suoi bellenti spiriti. Quindi sì, per un prezzo di 5-6 euro più o meno, ma quando si compra un computer 5-6 euro sono nulla in confronto al prezzo generale, si possono spendere per tenere al fresco la nostra CPU ed evitare che il processore frigga, che vi assicuro non è proprio una bella cosa. Questa è una piccola panoramica dei tre pezzi. E tra poco passeremo a vedere l'ultimo pezzo per questo video, poi ve ne proporrò altri. Ho deciso di raggrupparli così da non farvi stancare, ecco, diciamo. Allora, come potete vedere qua, questa è una RAM, più precisamente della Corsair, una Vagents. Low profile. Perché low profile? Low profile per tutto significa che il dissipatore è più basso del normale. Presa così per la corretta installazione del dissipatore della CPU. Poi ve ne parlerò in un prossimo video. Questa è una piccola panoramica sulla scatola, molto molto bella, devo dire. E niente, sono soddisfatto. Ne ho presi 16 giga perché per i render mi servivano un po' più di giga, anche se per il gaming ne bastano 8. Bene, per questo video è tutto. Enjoy e che la renna sia con voi.